Buongiorno, sono Doriana, titolare di Zeina, proposte di bellezza avanzate. Il mio è un piccolo istituto di bellezza fondato su un unico obiettivo, proporre trattamenti efficaci, performanti, all'avanguardia e che possano soddisfare le necessità di chiunque abbia bisogno di risolvere un inestetismo. Ormai sei anni fa ho introdotto Skins nel mio istituto perché ero alla ricerca di prodotti innovativi che mi permettessero di accontentare quelli clienti che avevano delle necessità che senza il brand non avrei mai potuto soddisfare. Skins mi ha consentito di trattare quei soggetti che avevano inestetismi legati al pelo irrisolvibili con altri metodi, anche con il laser stesso o con le classiche cere liposolubili. Problemi legati ai ipertricosi, pelincarnieti che spesso degenerano in problemi dermatologici. Buongiorno, mi chiamo Antonella Paradiso e sono una cliente di Doriano. A noi donne piace essere curate, non solo il corpo ma anche la mente, quindi la ritengo davvero un'attività essenziale ma poi ci fa star bene, è inutile dire avere le mani sempre curate, avere il viso curato, ci fa star bene quindi anche a livello psicologico. Grazie per la visione! Grazie per la visione!